L'episodio che avrebbe visto l'attore americano protagonista di un'aggressione nei confronti di un'adolescente, sarebbe avvenuto nel luglio 2016 in Massachusetts. Lo scrive il quotidiano Boston Globe, che cita il procuratore dell'isola di Nantucket, dove sarebbero avvenuti i fatti. La polizia locale indaga dal novembre 2017 sulla presunta aggressione dopo che la madre del ragazzo ha fatto sapere di aver denunciato l'ex protagonista di Apostrofo House O'Card. Accusa Kevin Spacey, l'attore si difende in un video in cui interpreta Underwood, non è finita, tornerò.